Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Village Tom. Quest'oggi vi propongo un laboratorio attraverso il quale riusciremo a creare una macchinina, una macchinina che va avanti per davvero. Cosa ci serve per prepararlo? Una bottiglietta d'acqua che sarà appunto il corpo della nostra macchinina e poi una cannuccia, degli stecchini di legno e dei tappi di bottiglia che serviranno per fare le ruote. Infine, un palloncino sarà invece proprio il motore della nostra macchinina. Per tenere tutto insieme, diciamo, ci serviranno due tipi di scotch, lo scotch normale e lo scotch vialesico. Andiamo a vedere insieme la preparazione di questo gioco. Grazie a tutti. Eccoci qua, la nostra macchinina è pronta, non ci resta che provarla. Eh sì, direi che funziona per davvero. A presto, ciao! Grazie a tutti.